140 miglia, 11 persone, 7 giorni di viaggio. È stata un'esperienza incredibile ed inclusiva, quella vissuta da 6 ragazzi con la sindrome di Williams, che accompagnati da due famiglie dell'Associazione Genitori Sindrome di Williams di Fano e dallo skipper Francesco Savelli, sono sbarcati a Lipari dal Catamaranobali. Partiti il 30 settembre hanno scoperto le olie nell'ambito del progetto intitolato Non ho bisogno solo di terapie, ma ancora di più di andare in barcavela, un'iniziativa che promuove inclusione sociale e pari opportunità per tutti, anche attraverso lo sport e l'immersione nella natura. Nicola, raccontaci commentata questa avventura e che cosa ti è piaciuto di più? Questa avventura mi è piaciuta un sacco, con i miei genitori, con gli altri amici miei che conoscevo io. Poi dopo andiamo conosciuti altra gente, dei posti di Lipari, Vulcano... Avete fatto quindi anche delle visite guidate? Sì, in giro per le città, per i monti, sono andati a vedere anche gli asini e le api che ci hanno regalato il miele e la marmellata. Dopo siamo ripartiti, sono andati ad un'altra isola che dopo c'era da mangiare il pesce, c'era da bere vino, spumante... Però è in barca invece com'è andata? Con la barca bene, benissimo, però lo skipper ha dato un cicchetto a mio padre... A tuo papà, non a te? No, a me, finalmente! E di questo errore che ha commesso il papà Andrea lo chiediamo direttamente allo skipper che cosa è successo? È successo che per toglierci dagli ormeggi di Lipari i due addetti alle cime dovevano gettare le cime di ormeggio sulla banchina per liberare la barca e uno dei due l'ha buttata in acqua aggrovigliandola alla bitta e quindi la barca è rimasta legata alla banchina mentre faceva retromarcia e quindi abbiamo dovuto fare una manovra non proprio ortodossa per uscire dal porto di Lipari però alla fine è andato tutto bene senza nessun problema se non che qualche urla nei confronti del malcapitato E poi qualche risata immagino E qualche risata per tutta la settimana perché i ragazzi non si sono risparmiati di prenderlo in giro per tutta la settimana Francesco, ci sono state delle difficoltà anche dal punto di vista del meteo che avete dovuto affrontare e come si sono comportati i ragazzi in barca? Per fortuna abbiamo trovato delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli non molto adatte alla vela perché vento praticamente non ce n'è mai stato tranne una mezza giornata durante la quale comunque abbiamo provato a fare un po' di vela e quindi i ragazzi abbiamo fatto provare a timonare questa barca a motore I ragazzi sono comportati molto bene, molto bravi certo, per tutti quanti loro era una prima esperienza sia per i ragazzi che per gli adulti che erano a bordo quindi tutti hanno fatto secondo me una bellissima esperienza si sono divertiti, sono tornati a casa tutti comunque con un bel bagaglio di esperienze difficoltà no, perché comunque era tutto organizzato in maniera tale da non far trovare problemi e cose difficili a nessuno la barca era molto comoda, si è comportata molto bene, non ci ha dato problemi e quindi tutto è filato molto liscio Andrea non è stata una semplice vacanza ma un vero progetto didattico, terapeutico e di condivisione sì esatto, non nascondo il fatto che dal punto di vista proprio di divertimento è stata una bellissima esperienza bellissimi posti, tempo meraviglioso, abbiamo fatto il bagno nelle acque calde quindi tutto molto bello molto bella è stata anche l'accoglienza avuta che ci ha riservato il comune di Lipari nella persona del Vice Sindaco e soprattutto dall'assessore ai servizi sociali Roccella Cristina che ci hanno proprio trattato con Mederi ci hanno illustrato, fatto vedere, ci hanno portato in giro anche per le isole abbiamo avuto anche la guida che ci ha portato fino sopra Vulcano abbiamo avuto poi la stessa accoglienza Salina, Lipari, Stromboli quindi è stato tutto molto molto bello è andato anche lo scopo che era del progetto quello per i ragazzi è stato terapeutico perché in questa settimana loro si sono divisi questi ambienti sono stati a contatto fra di loro grazie all'aiuto della dottoressa Laura Brutti che da casa è intervenuta con delle videochiamate i ragazzi si sono potuti aprire con lei hanno portato in chiaro diciamo così a lei alcune problematiche che sono surte in quei giorni in quegli istanti fra di loro, loro personalmente quindi anche lì abbiamo preso in pieno il progetto prossimi progetti? prossimi progetti sicuramente metteremo in cantiere un altro viaggio perché così l'amministrazione di Siracusa ha saputo del nostro progetto con Alipari e quindi ci ha invitato quasi formalmente ma insomma stiamo prendendo contatti per fare il periplo della Sicilia con partenza da Siracusa e ci aspettano, vogliono che ci andiamo quindi troveremo qualche soldo per farlo e partire vediamo buon vento grazie grazie